buongiorno buongiorno a tutti io sono shark bentornati su omed gaming altro video sulle build in questo caso la kinsetto l'inset glaive sempre versione pc chiaramente io ho due build dell'inset glaive in realtà ce ne sono parecchie in giro ok perché l'inset glaive è molto particolare nel proprio gioco è stata nerfata terribilmente quindi non aspettatevi dei danni di cristo in realtà con queste due build aspettatevi ma non ho fatto io per esempio build elementari o status con questa con l'insetto per il semplice motivo che non mi piacciono quindi non le ho fatte ma ho fatto due kinsetto da danno puro quindi farete veramente veramente dei grandanni in modalità però diversa adesso vi vado a spiegare le due bellissime build che ho fatto la prima build che vi faccio vedere quella del valazac io la chiamo build valazac per il semplice fatto che si usa entomo azac 2 che è l'arma del valazac ok ha ovviamente attributo drago che però noi ce ne sbattiamo altamente le balle dell'attributo drago ha anche un sigillo anziano medio quindi non va male l'unico secondo me l'unico difetto che ha questa questa bellissima glaive è che ha il bonus insetto contundente non lacerante o comunque taglio è un peccato però vabbè ci sta comunque ci sta l'insetto glaive in sé è un'arma particolare non bisogna utilizzare queste due build in volo quindi non dovete saltare o perlomeno saltate solo ed esclusivamente per fare close range col mostro quindi avvicinarvi al mostro o scappare dal mostro quindi in entrambe le direzioni ma quando arrivate sul mostro magari in volo utilizzate l'attacco veloce quindi la come la chiamo io il bay blade a terra per ritornare subito a terra e colpire il punto debole del mostro questa build in particolare la valazac si fonda ed è molto difficile da giocare ma fa dei danni osceni se riuscite a giocarla si fonda assolutamente sul fatto che voi colpiate il punto debole se non colpite il punto debole questa chinsetto non fa per voi perché è proprio basata su quello ma se colpirete il punto debole del mostro farà dei danni che nessun altra chinsetto e nessun altra build vi farà fare con quest'arma andiamo a vederla un attimo la benda del redrago cotta di kaiser parabraccia del kaiser e spira del kaiser proprio per avere il bonus e tallone potrefatto queste sono le abilità quindi bonus d'attacco bonus critico punto debole come vedete non ho occhio critico massima potenza al 3 attacco scoppio che non ci serve a niente ma ci viene data dall'armatura artigiano e bonus munizioni speciali quello che vi posso dire io è che la build si basa sulla tecnica del teostra cioè l'arma non perde acutezza durante i colpi critici i colpi critici però voi li fate solo ed esclusivamente se andate a colpire il punto debole del mostro non avendo occhio critico questa è la difficoltà di questa build ma vi posso garantire che io non io personalmente che comunque sono me in balestra ma gioco sia dual blade che in set live in base al mostro come mi va vi posso garantire che questa è la build più forte che io abbia visto finora dell'inset glive con le patch che noi abbiamo e su pc ovviamente su playstation non le sto neanche a considerare considerando che loro hanno l'armatura del behemoth e fanno cose molto più oscene di noi per ovvi motivi l'altra build invece che è molto più semplice dato da utilizzare è la kinsetto del diablos quindi questa qua la kinsettina del diablos la si riconosce perché in realtà è una alabarda quindi vabbè chiamarla kinsetto parolone comunque il falcione del tiranno 2 è quella del diablos ovviamente il diablos è puro danno raw quindi è puro danno fisico si basa sull'attacco continuo quindi utilissima questa build funziona per tutti i mostri indiscriminatamente e non c'è bisogno di stare di andare molto sul sottile qua bisogna solo e sicuramente pestare il mostro sempre pestarlo a terra ma in volo usate il volo solo per cavalcarlo se proprio proprio dovete ma fidatevi che è molto meglio pestarlo sotto di lui come è fatta questa build beh benda del red drago chiste del kushala kaiser ner gigante e putrefatto qua a noi non ci serve alcun bonus di nessuna armatura ma andiamo a vedere un attimo le abilità come vedete le abilità sono ben diverse ho bonus di attacco 4 artigiano 4 punto debole 3 massima potenza 3 bonus critico 2 strato protettivo e bonus non elementale qua noi non andiamo a mettere occhio critico perché prima di tutto abbiamo strato protettivo che ci interessa per il primo minuto di di cote della nostra arma il bonus non elementale che ci aumenta i danni dell'arma che non è elementale e in più hai sia bonus d'attacco che massima potenza che vi aumenteranno l'affinità anche e nonostante avendo il falcione del tiranno con un'affinità inferiore io il falcione del tiranno l'ho potenziato con con affinità e rigenerazione anche in realtà l'altra arma che vi ho fatto vedere prima l'ho fatto con affinità e rigenerazione questo perché sia il falcione che il che le doppie lame mi trovo molto bene con rigenerazione potete comunque mettere affinità e attacco doppia affinità in questo caso forse doppia affinità è ancora meglio perché riducete ancora di più l'affinità e farete molti più danni con questo è tutto spero di esservi stato utile non ho un'altra build della kinsetto in realtà ne avevo fatta un aerea ma faceva abbastanza cagare ripeto le kinsetto si possono utilizzare anche con gli elementi gli status perché colpiscono molto in fretta non quanto le dual blade ma molto in fretta e quindi sono molto utili anche in quel caso non ho build di quel tipo perché io preferisco usare le build di quel tipo con le doppie lame quindi non vi posso essere utile in questo caso ma comunque vi lascio un link in descrizione su reddit dove potete trovare svariate build compreso queste che sono particolarmente efficaci e magari lì una build elementare o status la troverete ci vediamo al prossimo video con belle build doppie lame ciao a tutti